Sorteggio sulla carta favorevole per la Lazio perché sono state evitate Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester United, Tottenham. Cioè lo Spartapraga che è sempre sulla carta è una delle più abbordabili. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa partita? Sono d'accordo fino a un certo punto sul fatto che lo Spartapraga sia più tempo le fra virgolette perché quando si arriva a questo livello le 16 squadre con qualche differenza, ma comunque sono tutte più o meno sullo stesso livello perché arrivare qui significa essere in grado di sviluppare una certa competitività. Diciamo che l'impegno con lo Spartapraga è una riga meno competitiva, scusa la ripetizione, di Manchester United, Liverpool per esempio oppure dell'espagnolo che è stato sorteggiato. Però ripeto, sicuramente sarà una partita molto competitiva, molto dura, molto difficile. Tuttavia noi siamo lieti di confrontarci con lo Spartapraga perché non è la prima volta che ci incontriamo con loro e abbiamo un ottimo ricordo del precedente incontro, ma di grandi risultati perché le gente veramente molto ospitale operano in una città bellissima, secondo me, e veramente fanno di tutto per farti sentire a casa di loro. E questo è molto importante. Credo che questo sia veramente quello che lo sport dovrebbe produrre e promuovere. Come ci si sente ad essere l'unica italiana a rappresentare il nostro calcio nell'Europa League? E tra l'altro c'è anche il rischio che sia l'unica italiana la Lazio a rappresentare l'Europa calcistica perché Roma e Juventus stanno rischiando molto. Quindi è più l'orgoglio di rappresentare l'Italia nel calcio più la paura di vedere il nostro movimento che è sempre un po' in crisi rispetto al calcio spagnolo, ad esempio che ha quattro rappresentanti. Sì, beh, indubbiamente è così. Devo dire che siamo chiaramente orgogliosi di rappresentare il nostro paese nella competizione UEFA. Ci rincresce sinceramente per tutte le consorelle italiane che sono state eliminate perché comunque queste eliminazioni non fanno bene al calcio italiano. Tuttavia ribadiamo che noi siamo lieri di essere i rappresentanti del nostro calcio in questa competizione e faremo di tutto per cercare di onorare questo privilegio che un po' ci siamo conquistati sul campo per quello che ci riguarda, un po' che è stato dettato alle circostanze, per quanto riguarda le altre squadre, di portarlo fino a questo. Possiamo dire a questo punto della stagione che l'Europa League è l'obiettivo primario della Lazio, considerata la situazione sia in Coppa sia in campionato dove la squadra è attardata rispetto al sesto posto che è occupato a noi. Sì, indubbiamente siamo leggermente attardati nel campionato, però togono anziani nel calcio mai dire mai. Fintanto che la matematica non ti condanna per ciò che riguarda il percepimento di un obiettivo quale che esso sia, in effetti lo puoi sempre raggiungere. Indubbiamente abbiamo maggiori chance di poter ben figurare nella competizione UEFA perché siamo già arrivati a questo livello e speriamo di andare avanti fino a fine se possibile.